Chi è il più figo del reame? Incominciamo qua con le scelte Oddio! Gli hai visto il colorito della pelle? What's up a tutti ciurmo e benvenuti raggiocherina in questo nuovissimo episodio su The Wolf Among Us Mi raccomando ragazzi continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like Per il prossimo episodio me ne lasciate almeno 20 Ed eccoci qua ragazzi tornati con il nostro carissimo e super figo Big B Pronti a rinvestigare qui intorno Direi proprio che è il caso di vedere per esempio cos'è questa benedettissima traccia di sangue Osserva Big B, osserva Dici cosa ne pensi Vai, che vuoi toccarlo anche? Esaminare il gruppo sanguigno? Eh, eh sì, eh sì, sì Ah sì? Bene, vediamo cosa c'è più in qua Va, perché magari hanno... Uh, cos'è questo coso? Brandello di tessuto Esamina un po', magari... Ah, cioè non ci interessa? Prendilo Magari c'è qualcosa su di esso Non ci dice niente Vabbè, intanto l'abbiamo preso perché non si può mai sapere E attenzione che qui c'è del sangue, signore e signori Quindi in pratica si è ferito il tipo che ha portato qui la testa Ah, ok, è ancora fresco quindi Beh sì, direi che si è infilzato proprio alla grande Vediamo qui dentro cosa c'è Una borsa? Ah, pensavo fosse la borsa della tipa Vabbè, come non ho detto Perfetto, allora Qui sopra non c'è una minchia Direi che possiamo tornare dalla nostra cara neve E vedere cosa dice Guarda cosa ho trovato Ah, vediamo se è della sua gonna Non è dello stesso tessuto, perfetto Questo è un messaggio, credo E vabbè, la sirena La posizione della testa Bene, ha concordato Vabbè, allora fai quello che devi Vabbè, glielo dirà comunque Le abbiamo detto di dirglielo Dottor Cuor di Maiale Ammazza che cognome Quindi io dovrei trasportare la testa Vediamo un po' che succede Ehi, è la bella gente Salve Non ho tempo per questo Scusa, non c'ho fretta Bene, buongiorno Oh, qui Non c'è non è vero non è vero Non lo so Ehi Vicenza era chi? Non abbiamo indizi, l'abbiamo appena scoperto Come si? trovi Vivian muster, spieghi l'interno and let her know I'm coming in early for my massage I will Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother, forget it. Can't do anything right? Do your job sheriff or will find someone who can Arran, giathe Stop We get on it right away sir You would have just pissed him off more All right Well that could have gone better. Well maybe we should have dragged it out Sti cazzi Io fumo lo stesso perché sono un figo Cos'è la storia del vino? Wow Ehi Che fai? Scemiare il cavolo Non era grande Che c'entra la scimia? Che c'entra la scimia? Non è sicuro che era più specifico Grazie Scimia volante Lo specchio Va bene Vediamo che ci dice un po' lo specchio Va Specchio servo delle mie brame Chi è il più figo del reame? Che c'entra la scimia? Che c'entra la scimia? Non penso sia della stessa paura del taglialegna Non conosco il suo nome molto specifico Prova a dirmi del taglialegna va E' un'altra cosa che c'entra la scimia? E' un'altra scimia E' un'altra scimia Grazie amico, ecco, arriva quei libri, arriva, attenzione che cade, che disastro hai fatto, Bafkin, ok ci siamo allora, direi che è proprio il caso di andare ad analizzare quei libri perché noi abbiamo raccolto l'anello della tipa e sull'anello c'è un simbolo, quindi è probabile che riconosceremo quel simbolo. Ok, vediamo un po', analizziamo questo libro delle fiamme, vediamo un po', qui c'è il taglianegna, qui c'è Biancaneva, ammazza che belli i nani, oh, demoniaci, tanto tempo fa, e questo sono io, ma quanto son figo anche da lupo. Vediamo un po', taglianegna, si, cappuccetto rosso, qui ci sono la bella e la bestia, qui invece chi abbiamo? Questa è la favola, penso sia pelle d'asino, credo. Ah, Jimmy! Non era questo il simbolo dell'anello? Wow, 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 fermi tutti. L'abbiamo già trovato. Benissimo, sappiamo qual è la favola, esaminiamo anche quest'altro libro allora. Ah, qui c'è Cenerentola, non è questo il simbolo che ci interessa. Mi interessa? Eccolo qua. Ebbè, allora che ci fai lì, dai. Leggi che dice. Che? Ah, ecco qua. Donkeyskin girl, also known as Donkeyskin girl, also known as Donkeyskin, also known as Asskin, ah, preferis to go by the name Faith, poetic. Vafin. We don't need the commentary. The story of Donkeyskin, there was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promised to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh, his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty, and they lived happily ever after. Should I mock it, Miss Snow? Yes, please. Oh. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? Non possiamo escluderlo, in effetti. Nothing would surprise me at this point. We can't rule him out. Brutta storia. Quindi si chiamava Faith. Ah, adesso... Perfetto, posso andare dal caro specchio. Adesso che so il suo nome. Mirror, mirror, blah, blah, able, blah, blah, blah about this fable. Which fable do you wish to know? Faith. Show me, show me Faith. Through powerful magic her wearabouts concealed, unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, it's simply the way this has to be. Era la frase che usava Faith, vi ricordate ragazzi? Fammi vedere dov'è il principe Lawrence. It's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Perfetto. Direi che è il caso di andare subito. E il padre di Faith, che mi dici di lui? Show me, Faith's father. The old king. Oh. Direi di sì. Grazie. Certo. E' anche in fretta. Oh. Che far. È per me? Oh, grazie. Chi è? Bigby, it's me. Hello. Oh. Che succede? Cosa vuoi? Bigby, it's me. Listen right. There's a blocco upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, what? Hang on. Boy, shit. Hey! Che? Che? What was that about? Dove andiamo prima, però? Ah, ok. Quindi il rospo lo lasciamo già a merda. Sì, direi che andiamo subito anche. Abbiamo fretta, neve. Spero non ci sia ancora la coda di tizi arrabbiatissimi qua fuori. Ah, in cominciamo. Siamo qua con le scelte. Che faccio? Il principe Lawrence c'eva quel benedetto coltello insanguinato. Quindi potrebbe essere lui l'assassino di Faith. Però il nostro caro Toad sembrava essere abbastanza nei casini. Sono molto indecisa. Vabbè ragazzi, io direi che mi dispiace moltissimo per Toad. Però direi che è prima il caso di andare a casa del principe Lawrence. Scelgo D. Do you think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Andiamo da lui. Chissà. Speriamo bene che con questi giochi non si può mai sapere. Era notte e minchia è diventato mattino presto. Uhuhuhu. I don't want to stay here any longer than we have to. So let's just pick an approach and stick to it, okay? Va bene. Just humor me. Dobbiamo interrogare Lawrence. We're here to question Lawrence. Pump him up on the suspect list or cross him off entirely. Okay. What is it? I just don't think he did it. Perché no? Isn't it usually the husband? For Mondays maybe, but this is different. Tutto può essere. Bussiamo alla porta del nostro caro Prince Lawrence. Stop talk. So che sei lì, mio caro. Bussa. E là? Bussa? Cioè sono... Niente da fare. Apriamo. E chiudo. Minchia oh. So che ci sei, dai. Niente da fare. E chiudo. Vediamo se trovo un altro modo per entrare. Qui? Dalla finestrazza. È aperta. Ti vedo. Che fai? Apri dai. Non c'è ancora aperta a questo punto. Tu come entri? Non entri? Ah, ok. Ah, che carina che è il neve. Salve. C'è Puzza? Oddio! Si sta decomponendo da un po'. Madonna che casino. Non si capisce? Sembra aver preso dei medicinali. Vuoi essersi tagliato qui? C'è un colpo in petto? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tocca. Chi sarà quanto è lì? Gli hai visto il colorito della pelle? Madre. Che altro? Era questo quello che avevo visto nello specchio? E' il bossolo del corpo incriminato. Prendi la pistola. A meno che l'assassino non abbia usato dei guanti. Bene. Credo che abbiamo visto abbastanza sul cadavere. Esaminiamo qualcos'altro. Il coltello che ho visto nello specchio. Bella domanda, neve. C'è un colpo sul muro. Madonna. E che... Beh sì, andrebbe verso il basso. Non verso l'alto. Deve averli sparato ora quando erai in piedi. Infatti. Anche? Puoi prenderlo? Ok. C'è del sangue qui. Il letto. Che è di quelli che si aprono o si chiudono. Controllalo. Vediamo. Apri il letto. Cosa ci sarà mai? Sangue? Cos'è? What the fuck? C'è un letto? Il letto è il letto. Ah, ha sbattuto il fumo! Che cavolo? Abbiamo trovato il tuo biglietto raddio? Abbiamo trovato una decisione per noi. Abbiamo trovato l'unica solo, quindi... I just shot myself in the heart. I thought I'd be dead by now. It hurts in fucking hell. Your heart's actually a little more to the center. Probably had a lung. Great. At least that's how I think it happened. Things are a little fuzzy. I thought it was a bad dream. Why did you do it, Lawrence? I did it because I was ashamed. I couldn't live with myself knowing I had done that to her. Cosa? Cosa l'hai fatto? I did what I could to keep her away. But she still worries about me. She comes by, make sure I'm okay. I'm a fucking burden. I'm useless. I don't want her to have to worry about me anymore. It's better off without me. Without me being here to drag her down. She deserves that. She's been through a lot. I just wish I could have done better by her. She's always been there for me. Tua moglie è stata uccisa. No way. Così. I'm sorry to inform you that your wife has been killed. No, no. No, no, no. I knew this would happen. I'm sorry. I am. But I'm going to need you to help me find whoever did this. Who is Georgie? Who is Georgie? What? You can't move in your condition anyway, so just stay still. The second we figure out what they're here for, Bigby will arrest them. Think about your wife. Fa' quello che ti dice, dai. Give me back the gun. Just in case. Ma non vuolevi morire, tu? Tirare ad entrare. Wow. E' questo? Non so chi è. Direi di aspettare e vedere che cosa fa. Perché è qui? Sì, abbiamo capito che puzza, però... Che vuoi, effettivamente? Ancora? Che micchia fa? Apre qui. Bene. Così ti faccio una bella sorpresa. Vai, salta fuori! Ehi, no! Merda! Ehi, no! Se sapevo, aspettavo! No! Cavolo! Ehi, stop! E' un figo anche quando corre! Wow! 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 Va! No! No, merda! Non sono mai pronta per il quick time event con... Con la tastiera! Corri big big, corri! Vai, 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 vai! Ok. Non possiamo perderlo. Vieni qua! Spero. Ho sbagliato? Parca merda! No, forse ci sono, ci sono! Eccolo! Vai! La sottoveste? Che sottoveste? Oddio! Quasi si ammazza il tipo! Woohoo! No! Quasi mi ammazzo io! Maledizione! Oh! No! Non mi può scappare! Seguilo, big B! Seguilo! Woohoo! Woohoo! Daie! Oddio! Oh! L'abbiamo preso! Alzati! Forza! Forza, big B! Forza! 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 Non lasciatelo scappare. Allora ragazzi, siamo riusciti a racchiapparlo, però direi di lasciare un po' di suspense e di rimandare l'interrogatorio a questo misterioso soggetto per il prossimo episodio. Quindi direi che questo video termina qui. Ricordi a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere! Grazie a tutti! Un saluto! Un bacione! E a te e a tutti ciurma la giocherina! Ciao!